Musica Bella a tutti ragazzi sono Arci e benvenuti in questo nuovo video Oggi ragazzi l'inquadratura è veramente bellissima Cioè mi piace un botto, la luce che arriva da lì e tipo qua che ce la vedio qua è bellissima Questa inquadratura è stupenda Comunque ragazzi il titolo del video è anche tu ci verrai Sì ragazzi perché questo è il video ufficiale per dirvi che sarò a Romics 2015 sabato e domenico Quindi sabato 11 e domenica 12 Spero che ci vedremo in tantissimi E la cosa più bella ragazzi è che aspetto le vostre fan art e aspetto tutte le cose cosose del mondo E come ho detto ragazzi o sabato domenica regolerò una maglietta a caso di zio pera Perché siccome mi avanza e per adesso non l'ho venduta Ho deciso ma se ne porto uno e la venderò sicuramente a Romics Quindi ragazzi stay tuned Un'altra cosa che devo dirvi bellissima A parte che ieri mi sono arrivato un botto di richieste per le magliette Per chi se lo fosse perso il video di ieri Ho creato uno shop, un sito nel quale si possono comprare magliette di zio pera Felpe di zio pera, magliette di marci, magliette di marci, magliette di cap, di maranghe Ci sono le magliette di un po' di tanti youtuber e fra poco faremo anche le magliette di Martina Quindi state tutti sintonizzati Comunque ritornando alla questione da Romics Spero ragazzi che ci vedremo Mi trovate sicuramente nel padiglione di Divimove Quindi nello sted di Divimove E se riesco vi porterò delle cartoline con scritto sopra tipo zio pera Almeno possiamo fare una cosa strafiga e firmo sopra o cosa così Perché uno di voi mi ha detto che vuole la firma non con scritto marci ma con scritto zio pera Ed è tipo... è imbarazzante come cosa Però credo che sicuramente conoscendomi potrei anche farlo E quindi credo che lo farò Sabato sera non so ragazzi Tizio vuole fare un live Altri vogliono uscire Io sinceramente uscirei Però sicuramente so che saremo tipo stra stanchi morti E se saremo stanchi morti quindi faremo un live Magari lo facciamo pure sul mio canale O su quello di Alice o su quello di Martina Quindi ragazzi vi ho spoilerato anche che ci sono Alice e Martina Romix ma sicuramente ve l'avranno già detto E niente Io spero che ci vedremo in tantissimi sabato e domenica Portatemi tutto quello che volete Io lo farò vedere in un video E sarà là dietro Adesso voi non lo vedete ma sarà sicuramente là dietro Quindi per questo breve Brevissimo vlog è tutto Domani torneranno i video di Minecraft È tutto Da Marcio è tutto Bella